Il Museo della Torre di Buonagia sarà gestito dall'Associazione Salviamo le Tonnare e dalla Proloco di Valderice. Nelle due sue grandi sale è custodita la memoria storica della Tonnara. In esposizione, oltre a foto, antichi utensili e attrezzi da pesca, c'è anche la riproduzione in miniatura del sistema delle reti. La storia dell'antica torre della Tonnara è stata illustrata dal professore Francesco Torre, che prima di iniziare ha osservato un minuto di silenzio in memoria del professore Sebastiano Tusa, scomparso lo scorso 10 marzo nello schianto aereo in Etiopia. Diverse le autorità presenti alla cerimonia inaugurale a partire dall'assessore regionale e alle attività produttive Mimmo Turano. Io sono qua da assessore alle attività produttive della regione siciliana a esprimere un sentimento di gratitudine a chi si impegna per riqualificare il territorio e investe, a chi chiaramente lavora per la propria azienda ma cura anche gli interessi di un territorio. Il borgo di Buonagia, il territorio dell'Agro Ricino, il comune di Valderice hanno delle potenzialità importanti su cui si dovrà provare a mettere a regime tutto. A Buonagia anche i sindaci dei comuni dell'Agro Ricino con in testa il primo cittadino di Valderice, Francesco Stabile, alla Tonnara di Buonagia con tutti i suoi assessori. Oggi mettiamo un tassello importante per quanto riguarda il posto di Buonagia, questo scenario veramente bello e fantastico. Ripartiamo con l'apertura del museo della Tonnara di Buonagia. Ci tenevamo che questo museo riaprisse e potesse essere fruibile ai cittadini ma a quante più persone possibili che vengano qui nel nostro territorio a Buonagia a vedere quelle che sono le nostre bellezze e anche la nostra storia e la nostra cultura perché il museo della Mattanza rappresenta la nostra storia, la storia di pescatori che hanno fatto la storia di questi luoghi, di questi posti. Quindi siamo veramente contenti di tagliare il nastro e aprire nuovamente questo museo dopo tantissimi anni. L'impegno dell'associazione Salviamo le Tonnare guidata da Nino Castiglione sta dunque dando i suoi primi frutti con l'apertura del museo della Torre di Buonagia. Un primo tassello nel progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di Buonagia che punta anche alla ristrutturazione delle vecchie muciare della Tonnara in condizioni di degrado e abbandono da anni. Tutto quello che stiamo realizzando lo stiamo facendo ovviamente grazie un po' ai contributi di tutti. La cosa bella è quello che diciamo io non mi sto inventando nulla ma stiamo rimettendo a sistema quello che c'è sempre stato. Adesso ci aspettiamo una pronta risposta anche dei cittadini e dei turisti perché si comprende che è il momento un po' particolare. Però credo che rivalutare tutto quello che abbiamo è qualcosa credo di umile e delizioso allo stesso tempo. Oggi siamo qua per continuare con il famoso progetto che era la messa a sistema di tutto un percorso museale. Quindi oggi cominciamo con la Torre.